Musica Polla autorizzazione unica ambientale per le piccole e medie imprese, domani l'incontro con tecnici esperti del settore. Sanità a Asl Salerno, da oggi parte il programma riabilitativo Progetto Autonomia. Petina, conclusa la cinquantesima edizione della festa della Fragolina di Bosco. Monte San Giacomo, ieri la cittadinanza benemerita al professor Rocco Cimino e a Franca Cancro. Cilento e Vallo di Diano, torna la vacanza del sorriso per i bambini onco-ematologici. Buonasera, ben trovati con il nuovo appuntamento con informazioni di Uno News. Apriamo recandoci a Polla, dove domani mattina si terrà un incontro per approfondire il tema legato all'autorizzazione unica ambientale che dovrebbe semplificare gli adempimenti burocratici delle piccole e medie imprese in materia ambientale. Una norma in vigore dal 2013, ma i cui dettagli non sono ancora del tutto ben noti. Vediamo. Il 13 giugno del 2013 è entrata in vigore una nuova normativa che punta alla semplificazione degli adempimenti in materia ambientale per le piccole e medie imprese. Una legge che doveva puntare a ridurre quella marea di documenti e di adempimenti burocratici che rendeva complicato dare vita a nuove imprese di piccole e medie dimensioni. Con decreto del Presidente della Repubblica è stata quindi varata in Italia l'AUA, Autorizzazione Unica Ambientale, che semplifica proprio le procedure per ottenere le autorizzazioni in materia ambientale. Manca però una corretta informazione sulla materia e così domani mattina a Polla, presso l'Aula Consigliare Santa Chiara nel Centro Storico, si terrà l'incontro promosso dall'Amministrazione Comunale. Grazie alla presenza di esperti e di dirigenti dei diversi settori interessati dal rilascio delle autorizzazioni, sarà così possibile conoscere nel dettaglio in cosa consiste l'autorizzazione unica ambientale e quali imprese possono beneficiarne. Tra gli interventi previsti, oltre al Sindaco Rocco Giuliano per i saluti, anche il Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Raffaele Accetta e il Presidente del Consorzio di Bonifica Beniamino Curcio, interessati per i rispettivi ruoli alla tutela ambientale. Presente inoltre il Presidente dell'Associazione Imprenditori Vallo di Diano Valentino Di Brizzi, che investe anche di imprenditori ancora più coinvolto sul tema, anche per una serie di ragioni, partendo dalla volontà delle imprese di lavorare e produrre economia nel rispetto delle regole dell'ambiente, ma che incontrano però spesso diverse difficoltà nel riuscire a seguire la marea di adempimenti che viene loro richiesti. Sarà quindi importante soprattutto per le imprese seguire gli interventi dei relatori all'incontro moderati dall'assessore Giovanni Corleto, che saranno introdotti dall'ingegnere Mario Iudice, responsabile dell'area tecnica e del SUAP di Polla, e dall'assessore Giuseppe Curcio. Saranno poi l'architetto Angelo Cavaliere, dirigente del settore ambiente della provincia di Salerno, l'ingegnere Anna Paola Fortunato, responsabile del servizio di autorizzazione unica ambientale, e l'ingegnere Francesco Petrosino, dirigente del settore autorizzazione dell'ente idrico campano, a spiegare nel dettaglio in cosa consiste l'autorizzazione unica ambientale, quali titoli sostituisce, quando è obbligatoria e quando facoltativa, ed altri aspetti tecnici che offriranno la possibilità di rientrarsi meglio nella normativa. La sanità, fratture al femore, disabilità neurologiche e da ictus per i pazienti del Salernitano, che ne sono colpiti, parte oggi l'iniziativa Progetto Autonomia, il programma riabilitativo per potenziare l'autonomia. Prende il via oggi una nuova iniziativa promossa dall'ASL di Salerno, si chiama Progetto Autonomia ed è il programma riabilitativo dedicato a pazienti reduci da fratture al femore, colpiti da ictus o con disabilità neurologiche. Permetterà ai pazienti interessati di potenziare l'autosufficienza, migliorando in tal modo la qualità della loro vita. Il programma è riservato a chi si trova tra il primo e il terzo mese dall'intervento per una frattura al femore, a chi è colpito da disabilità da ictus dal secondo al sesto mese dall'insorgenza e a chi ha disabilità neurologiche. L'accesso a tali percorsi avviene tramite medici di medicina generale, i fisiatri prescrittori dei distretti sanitari e delle parti ospedalieri di neurologia e ortopedia. I pazienti devono essere stabili clinicamente e trasportabili. Per informazioni o prenotazioni ci si può rivolgere agli ambulatori di recupero e riabilitazione del presidio ospedaliero di Polla, del distretto sanitario 72, sede di Sant'Arsenio, del presidio ospedaliero di Nocera, di Roccadaspide o di Oliveto Citra. Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. La modulistica invece è scaricabile dal sito aziendale www.aslsalerno.it E ora la cronaca dopo che l'ASL di Salerno ha sospeso la convenzione dell'Associazione Croce Azzurra di Squecco, a seguito dei festeggiamenti a sirene spiegate a favore dell'elezione del nuovo sindaco di Capaccio, Franco Alfieri, è caos ambulanze ora nel Cilento. E' caos ambulanze nel Cilento dopo la sospensione della convenzione all'Associazione Croce Azzurra da parte dell'ASL di Salerno, a seguito della nota vicenda del corteo di mezzi per festeggiare l'elezione al sindaco di Franco Alfieri. Il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, ha assunto infatti informazioni presso l'azienda sanitaria locale, evincendo che presso l'ospedale di Agropoli erano operative complessivamente quattro ambulanze, due della Croce Bianca, ovvero una con infermiere e un'altra medicalizzata, cioè con medico a bordo, e due della Croce Azzurra, cioè una rianimativa e un'altra per il trasporto dei pazienti dal presidio ospedaliero di Agropoli a quello di Vallo della Lucania. Ad oggi, tale unitaria rianimativa è stata sostituita con una omologa di Salerno, così come quella per il trasporto pazienti. Quindi, di fatto, le ambulanze operative ad Agropoli restano quattro. Vi era poi un'ambulanza rianimativa, operativa presso la postazione di Dicinella a Capaccio Pestum, che di fatto non è stata sostituita, e quindi, in caso di necessità, interverrà quella presente ad Agropoli, in attesa del ripristino completo del servizio che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Intanto, l'ASL Salernitana ha avviato il potenziamento estivo del servizio di emergenza territoriale e del servizio trasporti infermi del 118, presso le postazioni di Capaccio Pestum, Positano, Cetara, la litorane di Ponte Cagnano Battipaglia, Santa Maria di Castellabate, Pisciotta, Acciaroli, Casalvelino, Marina di Camerota e Palinuro. Tali postazioni si aggiungono alle 57 ordinarie del 118 e quest'anno il potenziamento è stato esteso ad un periodo di tre mesi, ovvero 30 giorni in più, e fino al 16 settembre, in vista dell'aumento di affluenza turistica nelle zone costiere della provincia di Salerno. Ci spostiamo a Battipaglia dopo i lavori di manutenzione torna a funzionare a pieno regime il depuratore di Battipaglia, un investimento costato mezzo milione di euro. È stato completato e collaudato l'intervento di sostituzione del sistema di grigliatura grossolana e fine presso l'impianto di depurazione di Tavernola a Battipaglia, che ritorna così a funzionare a pieno regime. Il precedente sistema di grigliatura era andato fuori servizio a causa di eventi meteo eccezionali che avevano causato la rottura sia della griglia meccanica a movimento manuale che del rotostaccio a tamburo posto a valle. Dopo il guasto, che si era registrato nell'atunno scorso, era intervenuto immediatamente in prima battuta direttamente il comune di Battipaglia, noleggiando uno specifico impianto mobile di grigliatura che ha consentito il funzionamento dell'impianto di depurazione, seppure con limitazioni sulla portata trattata, attendendo che l'azienda incaricata, la Ecomac SRL e assieme all'Asis, mettessero a punto un più efficiente e definitivo sistema di grigliatura sia grossolana che fine. L'intervento nei giorni scorsi completato e collaudato con la sostituzione definitiva che vede oggi l'installazione di una griglia oleodinamica per la grigliatura grossolana con sistema di rilevamento elettronico della portata in ingresso che proteggerà in futuro l'impianto rispetto ai picchi di portata in occasione di eventi meteo eccezionali e l'installazione a valle di una più solida griglia a tamburo per la grigliatura fine. Il progetto ha visto l'investimento di mezzo milione di euro con l'acquisto anche di una centrifuga per la disidratazione dei fanghi prodotti e che sarà installata nelle prossime settimane. Ci spostiamo a Petina. Si è conclusa con successo la cinquantesima edizione della festa della Fragolina di Bosco a Petina un'occasione per rilanciare il settore agricolo ed in particolare della coltivazione della fragolina e del settore dell'artigianato locale. Si è conclusa la cinquantesima edizione della festa della Fragolina di Bosco a Petina. Fine settimana di eventi e di promozione del territorio per la Proloco di Petina e non solo che si sono attivati per trasferire in particolare ai giovani l'idea che dalla fragolina di Bosco, prodotto tipico locale è possibile creare opportunità lavorative e di conseguenza dare le giuste prospettive di sviluppo e crescita per l'intera area e per chi la vive senza dover lasciare le proprie terre in cerca di un futuro. Il presidente della Proloco, Cosimo Avalone commentando l'esito della cinquantesima edizione della festa evidenzia come sia indispensabile credere di più nelle potenzialità del settore agricolo ed in particolare della coltivazione della fragolina di Bosco come opportunità per restare e crescere. Stiamo vendendo tante fragoline, la gente è attratta, il prodotto piace quindi si vende e siamo contentissimi di questa cosa. Dico a tutti i petinesi di mettere di nuovo le fragoline di Bosco e cercare di tornare alle produzioni che avevamo negli anni 80 e 90 è un sacrificio per tutti però dobbiamo chiedere una mano a tutti quanti e noi saremmo i primi ad aiutare, ad impegnarci per far sì che questo progetto si realizza. Ti ringrazio tutti e le ragazze del forum, i ragazzi della Proloco le ragazze della Proloco sono state splendide, mi hanno dato una mano incredibile a tutti quanti se non era per loro questa festa non si faceva, il prodotto è unico infatti nell'intervista non potete sentire il profumo che emanano le fragoline che abbiamo di là e poi questo gusto splendido che solo le fragoline di Bosco possono dare quindi venite tutti e assaggiate le nostre fragoline. Il prossimo anno ci sarà di nuovo, vero? Certamente, non possiamo fermarci, abbiamo fatto 50, dobbiamo fare 51 sicuramente. Durante la due giorni di festa, oltre alla promozione della fragolina di Bosco e delle numerose specialità gastronomiche realizzabili con il prodotto è stato possibile anche ammirare numerosi stand con prodotti dell'artigianato locale e non solo. Una festa quindi per rilanciare diversi settori economici che basano la loro produzione sulla qualità, sulla manualità e sulla cura dei dettagli. Torniamo nel Vallo di Diano e andiamo a Monte San Giacomo dove ieri sera presso Palazzo Marone è stato presentato il libro del professore Rocco Cimino Starici scusate parole di Navota. L'evento era organizzato dal comune come cornice culturale ad un appuntamento istituzionale la cerimonia di conferimento della cittadinanza benemerita all'autore del libro e alla moglie la professoressa Franca Maria Cancro, entrambi molto legati alla comunità san giacomese. Qualche anno fa hanno donato un patrimonio librario di circa 3.000 volumi di inestimabile valore contribuendo così ad arricchire notevolmente la biblioteca comunale di Palazzo Marone. Il professore Cimino ha insegnato per tanti anni nella scuola media locale lo ha fatto con passione e dedizione contribuendo alla crescita personale e culturale di tanti ragazzi. Per questa circostanza la famiglia Cimino ha avuto modo di vivere la comunità che di rimando li ha accolti con affetto e con stima. Dopo la cerimonia è stato presentato il libro Starici scritto in dialetto tegianese attraverso una carrellata di proverbi, modi di dire, filastrocche del passato. Si presenta come una testimonianza della cultura e dei valori di un luogo che è Teggiano, tanto cara all'autore. Dopo i saluti del sindaco Raffaele Accette, dei primi cittadini di Teggiano e di Savoia di Lucania quindi Michele Di Candia e Rosina Ricciardi sono intervenuti i parroci Don Carmine Tropiano e Don Giuseppe Puppo. Le conclusioni sono state affidate ai protagonisti della serata a moderare l'incontro la professoressa Maria Gallo. Ma ascoltiamo ora il sindaco Accetta e il professore Cimino. Si è chiuso veramente con tanta emozione quando il professore Cimino ha voluto ricordare una figlia di questo paese, purtroppo scomparsa prematuramente, Francesca, è stata sua alunna e che attraverso anche questi rapporti, attraverso anche questi sentimenti c'è stato questo grande legame con il professore Cimino, insegnante appunto nella nostra scuola media per diversi anni e che poi non ha mai lasciato con il cuore il nostro paese. Oltre che per i rapporti di amicizia che si sono consolidati nel tempo noi ritenevamo anche doveroso concedere la cittadinanza benemerita sia a lui che alla moglie per questa concessione che hanno voluto fare al nostro comune nel donare il patrimonio librario del padre della professoressa Cancro, di Franca Cancro, il professore Raffaele Cancro, un patrimonio di circa 3.000 volumi che noi abbiamo allocato e messo nella nostra biblioteca Marone e che è a disposizione di tutti. Monte San Giacomo, lo hanno detto, è nel loro cuore e doveva anche da parte nostra essere rimarcato questo affetto, questo sentimento, questo legame forte perché chi con Monte San Giacomo si è manifestato in questo modo è chiaro che deve avere il dovuto riconoscimento. Un atto di amore verso il mio paese al quale sono legato profondamente perché rappresenta il punto fondamentale della mia vita perché la storia del mio paese, della mia storia è un punto fermo nella vita di ognuno di noi perché chi perde la propria identità non ha futuro e quindi le nostre radici vanno sempre salvate, custodite e tramandate. Poi la cittadinanza benemerita di San Giacomo mi onora nel tutto perché ogni riconoscimento è sempre un piacere avere e poi perché io sono legato profondamente a questo paese perché il paese mi ha accolto con affetto, con stima, con amicizia e di questo sono profondamente onorato e devo dire che i valori dei San Giacomesi sono anche valori miei e quali l'amicizia, la solidarietà, l'accoglienza, la genuinità e la schiattezza che contraddistingue questo paese e spero di onorarlo con la mia presenza. E ora breve spazio pubblicitario, a tra poco. Bentornati alla seconda parte del nostro Tg andiamo nel Cilento ma anche nel Vallo di Diano perché tornano in entrambi i territori la vacanza del Sorriso con i territori proprio del Cilento e del Vallo di Diano che ospiteranno diversi bambini affetti da patologie oncoematologiche e le loro famiglie per queste vacanze di Sorriso. Quest'anno nel Vallo di Diano, Cilento e Alburni la vacanza del Sorriso, giunta alla quattordicesima edizione la manifestazione di solidarietà dal carattere sociale e assistenziale allo scopo di ospitare a titolo gratuito bambini e ragazzi con patologie oncoematologiche assieme alle loro famiglie provenienti da tutta Italia bambini sottoposti a lunghe terapie, spesso anche invasive che con la vacanza del Sorriso potranno vivere qualche giorno di spensieratezza all'insegna della ricreatività e dell'amicizia nel fine settimana appena trascorso ha preso il via la sessione della vacanza del Sorriso classica che ospita 25 famiglie e prevede attività di animazione ricreative ed escursionistiche fino al 22 giugno nelle località della Costiera Cilentana dall'1 all'8 luglio invece è prevista la sessione della vacanza del Sorriso dinamica anch'essa destinata a 25 famiglie con attività culturali, ludiche, ricreative ed escursionistiche in tutti i comuni del Vallo di Diano altri campus sono previsti fino al prossimo mese di settembre l'obiettivo degli organizzatori non è solo quello di far vivere ai bambini affetti da tumore e alle loro famiglie una vacanza da sogno nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni la vacanza del Sorriso infatti vuole essere un'esperienza emozionale mirata a contribuire a preservare il benessere psicologico e sociale dei bambini e anche dei genitori dando l'opportunità a tutta la famiglia di vivere oltre ad un periodo di riposo anche momenti coinvolgenti attraverso la partecipazione attiva ai vari programmi ispirati alla terapia della ricreatività e andiamo a Salerno sabato scorso importante incontro ha visto insieme il Rotary Club Salerno il Rotaract Club Salerno scusate e l'associazione Monte Bruno Giovani per sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori un incontro di grande rilevanza anche per la possibilità di conoscere meglio le malattie e le possibili cause scatenanti l'associazione Monte Bruno Giovani ancora una volta vicina al Rotaract Salerno presieduto da Attilio Caliendo per nuove iniziative di carattere sociale sabato scorso presso il circolo Canottieri Irno a Salerno si è tenuto un incontro finalizzato ad informare sulla necessità di prevenire e di effettuare controlli preventivi al fine di contrastare le patologie tumorali che ad oggi secondo quanto emerso nel corso dell'incontro rappresentano la seconda causa di morte anche quest'anno accanto ai ragazzi del Rotaract Club Salerno presente anche l'associazione Monte Bruno Giovani del presidente Antonio Mastrandrea da sempre sostenitrice insieme alla Banca Monte Bruno al circolo Banca Monte Bruno e ora anche alla Fondazione Monte Bruno delle iniziative che vanno a sostegno del sociale ed in particolare che possono contribuire a migliorare la vita e le conoscenze delle comunità in cui operano dall'arrivo a Salerno l'associazione Monte Bruno Giovani ha sostenuto diverse iniziative di carattere sociale e culturale e come già accaduto in passato non ha voluto far mancare il suo supporto a questa nuova iniziativa del Rotaract Club Salerno un evento che ha visto la partecipazione di numerosi esperti grazie al supporto dell'Università di Salerno dell'Ordine dei Medici e delle Odontoiatri di Salerno e dell'Associazione Italiana Fisioterapisti tema dell'incontro il tumore non fa rumore ponendo quindi l'accento proprio sulla necessità di effettuare con regolarità controlli preventivi al fine di aumentare notevolmente le possibilità di recupero e di contrasto al terribile male un'iniziativa che ha raccolto il sostegno del presidente dell'Associazione Monte Bruno Giovani che ha evidenziato come grazie alla presenza di illustri relatori è stato possibile analizzare dettagliatamente il problema che è oggi diventato di interesse collettivo riuscendo peraltro a raccogliere l'interesse di tanti partecipanti nel corso dell'incontro emerso come un terzo delle persone affette da patologia tumorale si ammalano a causa di abitudini sbagliate come ad esempio sovrappeso scarsa assunzione di fibre sedentarietà fumo e abuso di alcol ancora oggi sottolinea Antonia Mastrandrea tantissime persone scoprono di avere un tumore troppo tardi quando è già in fase avanzata i progressi della medicina hanno certamente aumentato la speranza di vita ma sono l'acquisizione di stili di vita sani e la diagnosi precoce a poter maggiormente incidere la ricerca fa importanti passi avanti continua Mastrandrea e ora lo sport andiamo a San Pietro Altanagro dove ieri mattina si è svolta la stessa edizione della Gran Fondo Tanagro Memorial Pasquale a Maccapane Franca Priore della ciclo team Tanagro molto partecipata circa 720 gli atleti provenienti da tutta Italia nell'occasione c'è stata anche la premiazione della Federazione Ciclistica Italiana che ha insegnito Angelo Coiro della onoreficenza federale d'oro al merito per il ciclismo a San Pietro Altanagro ieri mattina la sesta edizione della Gran Fondo del Tanagro Memorial Pasquale a Maccapane Franca Priore della ciclo team Tanagro due i percorsi lungo e medio che in questa edizione hanno interessato solo la provincia di Salerno sono stati toccati vari comuni e località a seconda dell'itinerario scelto quindi Sant'Arsenio Polla Atena Lucana Sala Consilina Padula Montesano sulla Marcellana Sassano Teggiano Pertosa Auletta Caggiano Siamo al sesto anno di questa bella manifestazione anche quest'anno ci confermiamo con oltre 700 partenti che dire come tutti gli anni anche quest'anno una novità il percorso cambia tocca dei nuovi punti del nostro territorio con le grotte di Pertosa e quindi ci spostiamo ci spostiamo dall'altro lato del vallo ci sono dei tratti impegnativi una discesa molto ripida che si trova nei pressi delle grotte di Pertosa una salita abbastanza impegnativa nell'ultima parte quindi che riguarda il tracciato lungo come tutti gli anni l'arrivo sarà ai parchi del Molini il percorso corto va direttamente all'arrivo e lungo invece prosegue poi per le grotte di Pertosa A vincere la Gran Fondo di 126 km per gli uomini Michele Laddomada della Bikemania Puglia per le donne Maria Parisi del velocifero Basilicata la Medio Fondo di 85 km mentre invece se l'è aggiudicata per gli uomini Mattia Barretta della Luxor Campania e Caterina Bello della Pedale Elettrico Puglia tutto perfetto anche quest'anno il successo era garantito dalla sinergia tra enti e istituzioni locali che sta dietro alla manifestazione dalle grandi potenzialità sia di carattere sportivo che turistico con la ciclo Team Tanagro hanno collaborato attivamente la Proloco preseduta da Francesco Cardiello e l'amministrazione comunale retta dal sindaco Domenico 40 San Pietro al Tanagro continua a stare sotto i riflettori nazionali per l'evento che ad ogni edizione chiama nel Vallo di Diano centinaia di persone da tutta Italia tra partecipanti accompagnatori atleti e semplici appassionati di ciclismo questa sesta edizione è stata caratterizzata da un momento emozionante per il ciclismo locale ad Angelo Coiro presidente onorario della ciclo Team Tanagro e già consigliere della Federazione Ciclistica Italiana sul finire degli anni 90 è stata riconosciuta all'onorificenza federale d'oro al merito del ciclismo per l'occasione c'erano ieri mattina a San Pietro al Tanagro Raffaele Tirone della Commissione Benemerenze della Federazione Ciclistica Italiana e Giuseppe Cutolo presidente della Federazione Ciclistica Italiana Campania indubbiamente a livello nazionale 720 iscritti quasi tutti quanti partenti una bella giornata non molto calda un percorso tecnico e mi auguro che sia una giornata di sport tutti quanti possano divertirsi indipendentemente dalla competizione sono qui stamattina come presidente regionale non per dovere ma è un piacere esserci anche perché è un momento importante per la famiglia Coiro che è l'eccellenza in questa parte del Salernitano perché stamattina verrà premiato Angelo Coirico il papà di Francesco per la sua vita dedicata allo sport e la federazione gli ha dato un riconoscimento che è decisamente importante e sono contentissimo di poterglielo consegnare in più anche un ricordo perché nel 1969 io ho vinto una gara da direttante con un vantaggio bellissimo passo della sentinella ecco mi piace ricordarlo perché poi è proprio questo che ti tiene sempre praticamente in vita sportivamente parlando perché queste esperienze e queste emozioni possano continuare ed era questo l'ultimo servizio di oggi io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti